Sono venuto a Vimodrone perché dalla Svizzera, dove io a 15 anni lavoravo a Cottimo a telaio facendo la stoffa, sapevo che aprivano lo stabilimento dell'Alanerossi dove c'è oggi lo sciamo. Capivo che in Svizzera non avrei mai potuto fare carriera. Studiavo sui libri di ingegneria tessile del figlio del mio principale. Venni in Italia proprio per lavorare allo stabilimento dell'Alanerossi. Avevo mia zia che aveva una trattoria qui. Allora mentre i miei genitori erano ancora in Svizzera, io vivevo da mia zia e andavo a lavorare all'Alanerossi con un certo entusiasmo perché...